Per i ragazzi, le donne ci tengono veramente un sacco a San Valentino, quindi mi raccomando, prenotate un buon ristorante all'uomo di candela, vestitevi bene, andatele a prendere, compratele dei fiori, dei cioccolatini, un peluche, naturalmente fate i gentiluomini e non fate i tirchi e pagatele sta benedetta cena per una volta. Per le ragazzi invece, ai vostri ragazzi non le fotte un cazzo di come avete i capelli o di che vestiti indossate, e loro a San Valentino vogliono solo una cosa. SCOMARE!